Lo scenario già esiste, si sa già qual è l'epilogo, Renzi premier, quindi queste non sono consultazioni, sono semplicemente un teatrino ed una farsa. Non potrà mai essere un'unica persona a salvare il destino di questo paese, un uomo solo, alla guida di un carro, a tirarci fuori dal baratro. Non è con un cambio di staffetta che si risolvono i problemi, i parlamentari, la compagine parlamentare è sempre la stessa. Perché non si va a elezioni? Non si va a elezioni? Ne?